ciao e benvenuti vediamo in questa traccia come con un semplice comando TREE possiamo avere l'elenco dei contenuti di un intero disco di una cartella di una unità usb di un disco rigido esterno molto comodo per chi ha bisogno di tenere traccia di tutti i file contenuti dentro le proprie unità buona visione vediamo ora come ottenere l'elenco dei nostri file all'interno di cartelle con un semplice comando tramite il cmd di windows nel nostro caso andremo a vedere le tre cartelle sul desktop archivio lavori e progetti cosa contengono affinché le possiamo catalogare e mettere in un archivio con tutti i file che le stesse contengono questa tipologia di catalogazione possiamo utilizzarla anche per le chiavette usb o per i dischi esterni dove immagazziniamo costantemente dati e vorremmo con un semplice file di testo conoscere i contenuti e sapere cosa contengono ogni singola unità apriamo quindi il nostro comando cmd che è il prompt dei comandi di windows ci posizioniamo in questo caso sul nostro desktop e digitiamo il comando 3 come possiamo subito notare mostra esattamente il contenuto delle cartelle archivio lavori progetti e le sottocartelle contenuta in esse se vogliamo conoscere il comando che ci mostra anche il contenuto delle cartelle aggiungeremo slash f ed ecco che si presentano le nostre cartelle archivio con il contenuto lavori con il contenuto e il contenuto delle sottocartelle come progetti il contenuto e la sottocartella contenuta sempre in progetti ci viene in aiuto un altro piccolo comando sempre valido per 3 che è barra f barra a maggiore lista files punto txt questo comando dice a 3 di scrivere dentro il file lista file punto txt sul nostro desktop quanto ha trovato in ogni singola cartella lanciamo ecco che appare sul desktop un nuovo file lista file che andremo subito ad aprire il file conterrà esattamente l'albero 3 di ogni singolo ogni singola cartella e ogni singolo file e sottocartelle contenute potremo quindi salvarlo stamparlo conservarlo per eseguire ricerche senza dover ogni volta utilizzare la periferica e il percorso a noi necessario grazie per la visualizzazione un like fa sempre piacere alla prossima grazie a tutti grazie a tutti